Allora, sono qua in SOLIDWORKS e ho questo albero, diciamo, con due ruote dentate e con i relativi cuscinetti a strisciamento. Per bloccare tutto viene usata questa ghiera KMF, che viene, se io vado ad aprirla, è della SKF, e dunque qui è filettata e qui ha una vite dove si va ad avvitare per bloccare sul filetto e non c'è bisogno di nessun anello di sicurezza e dunque non c'è bisogno di una lavorazione sul filetto, perché se mi serve l'anello di sicurezza, mi serve il dentino, dove andare a bloccare col dentino. Dunque è una ghiera antisvitamento, che è diversa dalle GUP, GUH, quelle che hanno dentro nel filetto una specie di, diciamo, gomma per andare a fare da antisvitamento. Qui invece l'antisvitamento viene creato dalla pressione di questa vite, ok? nell'avvitamento. Allora, le ghiere, qua leggo nell'SKF, le ghiere di bloccaggio KMK e KMF sono semplici da installare, tutte le ghiere sono dotate di quattro scanalature, dunque sono una, due, tre, vediamo qua, e quattro, ok? Attorno alla circonferenza per consentire l'impiego di una chiave a gancio. Gli appellativi delle chiavi compatibili sono riportati, vabbè, nelle specifiche tecniche per ciascun prodotto. Se non danneggiate le ghiere di bloccaggio serie KMK e KMF si possono riutilizzare. Nel montaggio, la descrizione è, dopo aver posizionato il cuscinetto, vabbè, in questo caso era una volta tentata, ma si possono usare, come qua, se poi dice qui, ok, qua diceva, Lock nut used to locate bearings or other components under a shaft, e dunque per altri componenti, dunque, va bene, venisciamo una volta tentata. Vabbè, into a shaft, this nut is designed with four equally spaced slot around the outer diameter, diameter, ok, four slot, to take a hook or impact spanner secured in place with an integral locking screw, che è questa qua, integral locking screw. Qui, dunque, dopo, io faccio sulla sede cilindrica, vabbè, dopo aver posizionato il cuscinetto, la vuota tentata, quello che è, avvitare la ghiera in posizione, fissare la ghiera contro il cuscinetto, mettiante una chiave a gancio, avendo cura di non serrarla eccessivamente, serrare la vite, e dunque col gancio su queste quattro, qua, serrare questa vite, il terzo punto, e serrare la vite di fermo, secondo il valore di coppia, riportato nelle specifiche tecniche di ciascun prodotto. Vabbè, qua poi dice lo smontaggio, per rimuovere la ghiera, allentare la vite di fermo, dunque si fa l'opposto, anche dopo la rimezione della vite di fermo, la ghiera genera una coppia di bloccaggio limitata, per allentare completamente il sistema di bloccaggio e agevolare l'utilizzo della ghiera, picchiettare sulle aree in prossimità della vite di fermo, servendosi di un martello e una barra di materiale morbido, non danneggiare i fori filettati della vite di fermo, svitare la ghiera con una chiave a gancio, dunque picchiettare qua, ok, su questa zona qui, per sbloccare. Volevo far vedere poi, com'è il sistema di bloccaggio, che è la cosa più, interessante, dovrebbe essere qui, design, no, ghiera di principio di fissaggio, eccole qua, cioè la KMF, le ghiere serie KMF sono dotate di una vite di pressione integrata, per vincolare la ghiera in posizione, quando la vite di pressione viene serrata, la filettatura della ghiera si deforma, e viene compressa contro il filetto dell'albero della bussola, e questo è la KMF, eccola qui, e dunque naturalmente dal disegno si vede che dobbiamo andarla a bloccare contro qui, ok, dunque qua è filettata, io vado ad avvitare, qui si crea una pressione che mi va a fare l'antisvitamento, il bloccaggio per deformazione, ok, notare sempre che noi dobbiamo portare sempre un po' avanti il filetto, no, qua sarebbe il mio cuscinetto, dunque un pochino, almeno, qui, da qui si desume, addirittura, si possiamo come al solito, due volte il passo, dobbiamo entrare dentro, questa è la regola, e si desume anche da questo disegno qui, la KMK invece è diversa, la figura, dunque va da M10 per 0,75, M100 per 2, ok, dunque sono sempre come le altre, fini, passo fine, ok, figura 2, vediamo la KMK, però volevo un principio di fissaggio, che è qua, le serie KMK sono usate di un foro con inserto filettato in acciaio, i filetti dell'inserto corrispondono a quelli delle ghiere, l'inserto funge da piastra di pressione, mentre viene serrata una vite di pressione, che passa attraverso il corpo della ghiera, e qui, la vediamo qui, ok, e qui è leggermente differente dall'altra, dunque qui è un qualcosa di mobile che va, mentre là, avevamo visto, questo qua è solidale con tutta la parte, e dunque viene compressa, ok, c'è una deformazione qui, la KMFE, e questa invece è la KMK, ok, funge da piastra di pressione, vabbè, spero di essere stato utile, e dunque questo, mi aiuta, perché non ho bisogno di una lavorazione in più sull'albero, che sarebbe la sede del dentino dell'anello, di bloccaggio, e dell'antisvitamento, e l'altra cosa in più, che è il filetto un po' più corto, teoricamente, bisognerebbe andare a vedere quelle altre dimensioni, però non ho bisogno di disegnare anche l'anello, o comunque inserirlo, l'anello di antisvitamento, dunque ha un componente comunque in meno, vabbè, il costo probabilmente sarà più caro, bisognerebbe vedere poi, però, ecco, c'è questa possibilità, che da un punto di vista, per la maturità, sarebbe molto, molto comodo, però, bisogna dirlo, quando si usano queste qua, invece di usare, tra gli standard, uso questa KMF, KMK, o, poi c'è anche, la possibilità, come avevo fatto, vedere, le GUP, GUH, vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci,